Ciao a tutti ragazzi, oggi per i veri fan di Pokémon vi farò vedere una carta super rara, in anteprima, partecipando alla lotteria. Una carta da collezione certificata e autentica, conservata nella sua custodia. Ora ve la farò vedere. Siete pronti? Eccola, questo qua è un Charizard gradato GX che si evolve da Charmellion e ha 250 punti salute. Come prima mossa lancia fiamme e come seconda fuoco carica e che fa 300 di danno, però dopo non la puoi usare. Ed è fuori sere del 2019 ed è molto bella. Quindi ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti